The master di stagione per lui, l'uomo sartoriale, potremmo definirlo anche the tailor made. Il modello moccasino diventa l'emblema del sartoriale, un moccasino sfoderato, un moccasino a costruzione tubolare, un moccasino che ha dei dettagli cuciti all'interno come fettucce personalizzate con le sigle delle iniziali di chi poi indosserà la calzatura. Sono delle scarpe un po' chicca, con delle suole prettamente in cuoio, però un cuoio vissuto, lavorato, trattato, magari anche un po' maltrattato all'interno dei tumble, per cui anche un po' frutto di abilità conciaria. L'uomo sartoriale è The Dandy.